In arrivo la proroga al super bonus al 110% per le villette in Commissione Finanze c'è l'accordo per far slittare la scadenza al 30 giugno e forse oltre fino al 30 settembre usufruendo dell'agevolazione piena al 110% se è stato compiuto almeno il 30% dei lavori. Verrebbero ripristinati gli sconti per le case popolari, gli immobili degli enti no profit e quelli che fanno parte dei comuni terremotati. Altra novità è quella che riguarda l'edilizia libera. La norma cosiddetta salva caldaie o salva infissi per chi ha messo in cantiere lavori di sostituzione di caldaie e infissi di nuova generazione sarà sufficiente aver fatto un versamento con bonifico parlante con la causale e i riferimenti della fattura e l'autocertificazione di compratore e venditore. Slitta al 30 novembre anche la data per la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti e sconti in fattura. Grazie al meccanismo della remissione in bonus sarà possibile ultimare la procedura oltre il 31 marzo stabilito con il decreto restrittivo versando una sanzione di 250 euro all'Agenzia delle Entrate. Resta il nodo dei crediti incagliati, quasi 20 miliardi. La soluzione proposta da banchieri e costruttori di usare le compensazioni con DF24 non convince il Ministero dell'Economia. Il governo pensa a coinvolgere le partecipate statali. Il testo affronterà l'aula di Montecitorio lunedì.